Musica Benvenuti ragazzi, ben ritornati dal vostro giocatore, siamo tornati signori di nuovo su FIFA 18 Siamo qua ragazzi con il secondo appuntamento del Road 3 Vision 1 Allora ragazzi, intanto mi starei venendo a FUT Champions, sono arrivato ad argento 3 ragazzi, sto giocando un pochettino da solo E ne sto vincendo parecchie, quindi quando non registro, l'ho detto che vinco, quando registro perdo in un modo incredibile Comunque concentriamoci con questa stagione che praticamente già abbiamo vinto la divisione 10, siamo ufficialmente in divisione 9 Però se vinciamo il titolo abbiamo la possibilità di acquistare già qualche giocatore un po' a nostra scelta Perché sto utilizzando il metodo del potenziamento un po' alla come me pare tra parentesi Perché non voglio fare una serie che comunque può influenzare molto sulle Rotary Giovanni Perché la gente comunque ragazzi che viene su YouTube e guarda appunto noi YouTubers, oppure guarda a me principalmente Perché comunque riesco a crearmi e a fare delle squadre che non tutti riescono a permettere Quindi appunto la gente viene anche qui su YouTube per vedere una squadra veramente bella e decente Quindi signori, non voglio creare una serie che mi possa limitare Però comunque abbiamo fatto la cosa che ogni divisione che vinciamo O comunque poi se vinciamo il titolo possiamo acquistare i giocatori che più ci pare Quindi adesso già potrei acquistare un giocatore che non so, tipo oro normale Mo che vinco il titolo posso prendere un oro raro che posso andare a mettere qui nella squadra e crearmi così appunto tutta la squadra che io voglio fare Al quinto episodio facciamo un mini pack opening e con quei giocatori che troviamo lì ci andiamo appunto a completare un po' la nostra squadra Questo è il metodo che andrò a utilizzare Non mi voglio troppo limitare perché come vi ho detto non voglio creare una serie che comunque possa influenzare troppo sulle Rotary Giovanni Ma andiamo avanti in questo modo Quindi signori, io intanto vi invito a lasciare subito un bel pollice in su, mi raccomando Scaricate OneFootball che è Gratis, trovate qua sotto il link in descrizione, mi raccomando Che riguarda un'applicazione che riguarda tutto il calcio in generale Quindi mi raccomando scaricatela, intanto vediamo un po' il nostro avversario, il nostro poro avversario che verrà massacrato oggi perché dobbiamo avanzare la coppa Ok ragazzi vediamo il primo avversario un po' che squadra ha, ah vabbè è una squadra tranquilla Si parte subito ragazzi, la cosa più importante è cercare di andare immediatamente a segnare ragazzi Quindi se riusciamo a segnare subito, riusciamo, ole, ci non andiamo E prendo l'incrocio della sorella Dicevo la cosa importante ragazzi, cercare di andare subitissimo a segnare in modo tale che se putacaso, putacaso, riusciamo a fare più gol possibili Facciamo quittare l'avversario e accorciamo un pochettino i tempi Attenzione, guarda la deviazione della mamma, ole Buono così ragazzi, mamma mia che palla che ha recuperato E subito andiamo a segnare l'1-0 dopo 12 minuti di gioco, quindi molto buono Vediamo un po' se riusciamo a farne altri in modo tale da far quittare eventualmente l'avversario Eccolo, beh o no, non ci posso credere che ha preso la ricavara ma non ci posso credere Bello Bellissimo Eccolo qui No vabbè E' proprio schifo E ci sta ragazzi Forza 25-0 Bellissimo Bellissimo Eccolo qua ragazzi 3-0 Per forza ragazzi Per forza Niente, continua Inferterrito proprio eh Eccolo, vai così 4-0 Questa è una bella azioncina perché mi è piaciuta proprio Mi è piaciuta proprio Ma perché il full champions non riesca a giocare così? Cioè nel senso perché si trova un avversario di questa qualità del full champions? Attenzione, eccolo qui Ormai siamo partiti ragazzi Goal su goal Forse, forse Te prego della foco Tanto stiamo 5-0 Almeno ho venuto subito il titolo E stavamo tutti felici e contenti No? No, beh niente Bellissimo Eccolo qui 6-0 Ragazzi Questo ne vuole prendere 25 di goal Lo dico io Mi sa che sto con No, sto dicendo questo goal Io l'ho regalato Neanche se è cagato Anche questo Se è cagato E' bello Ancora ragazzi 7-0 E dai Basta Basta Te prego E' proprio curioso comunque di vedere quanto Riesco a vincere una partita Tiene 8-0 Oddio Olè Ma guarda che mozzarellina Ma proprio Per poca è uscita Così a random 9-0 Dai ragazzi che a fine partita forse Arriviamo a 15 goal Mamma mia Che bombe a mano ragazzi Ma che azioncini Ci stiamo creando 10-0 Finisce qua ragazzi La partita Che ci fa conquistare Il titolo Veramente ragazzi La partita Diciamo forse un po' dominata Ma forse Cioè Giusto Secondo me abbiamo fatto Tutti 30 tiri 23-15 ragazzi 15 tiri porta 10 sostati goal Eccola qua Titolo vinto Quindi adesso ragazzi Possiamo andarci a prendere Un giocatore A nostra scelta Un oro raro Che possiamo andare a inserire Qui in questa squadra Vediamo un po' Perché comunque Come ho detto Con la vittoria del titolo Possiamo uscire noi Un giocatore Allora vado a potenziare ragazzi Per prima cosa Il portiere Che secondo me È un giocatore Che ci serve Molto Nella fase del Rotricio 1 Quindi Primo giocatore Che possiamo andare a prendere A nostra scelta È un bel Portiere 83 Che abbiamo preso Quindi ci sta ragazzuoli Andiamo a giocare La seconda partita Ma la prima partita Della divisione 9 E ci siamo ragazzi Prima partita Della divisione 9 Vediamo un attimino Che squadra C'ha questo Ok FIFA Va bene tutto Ma come pretendi Una mia squadra Di interamente Bronzini caccolosi Con una squadra così Vabbè Con un porta Sembra cito immobile Raga comunque Però Andiamo avanti così Andiamo con il calcio inizio Si parte immediatamente Qua sarà Secondo me Abbastanza tosta Ragazzi A meno che dobbiamo sperare Che questi che usano Ste squadre Non ne sappiano usare Ecco Oddio Oddio Eh Non ci credo Sì Ma è così ragazzi 1 a 0 Attenzione Raga Goal comunque Cercato alla fine 1 a 0 Buono così Che cavolo di goal Raga Eccolo che è buono Eccolo che è buono E dai così Ragazzi 2 a 0 Dai che se continuiamo così Forse questo facciamo quittare Dai ragazzuoli Attenzione Eccolo Madonna mia Raga Porca miseria Passa peggio Io Raga Il full champion Siamo giocando La squadra dei bronzini Perché porca puttana Fanno dei tiri Assurdi Fanno dei tiri assurdi Fanno Vai così E ci sta 4 a 0 Vabbè Non so dire voi Con me va bene Attenzione Attenzione Mamma mia Ma è nostra No Guarda che culo Non ha messo neanche il calcio d'angolo E tira dentro Sto pallone Ah chi è Mamma mia Scusate Mi sa che stai la quitta Vediamo un po' Vediamo un po' E mi sa proprio di sì Regà Meno male Meno male Ma giusto perché Siamo solamente All'inizio delle divisioni Ragazzi che sono quelle Più o meno facili Quindi Solamente per quello Perché se troviamo uno Che ci sfraccella le chiappe È un problema Signori Questo video è giunto A termine Ovviamente Spero vi sia piaciuto Mi raccomando Un bel posto in su Commentare Condividete Passate la pagia Facebook e Instagram Trovate tutti In canale In descrizione Anche buon futuro Vi ricordo Qua sono la descrizione Che è gratuito Quindi mi raccomando Passateci Al prossimo Il vostro giocherino Iscriviti al canale Ciao signori Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.